L'automobile si è ribaltata nel parcheggio della palazzina al numero 26. L'autista stava tentando un sorpasso di un'altra macchina quando ha perso il controllo ed è finito contro la sepe, sradicandola. Purtroppo dietro la sepe c'era un salto di circa 3 metri e l'automobile si è ribaltata, spiorando le auto parcheggiate. Per l'autista il ricovero in ostedale in codice giallo, sul posto sono intervenute l'ambulanza della croce bianca all'immagente, una pattuglia di carabinieri della compagnia di Abbiategrasso per i rilievi tecnici.